Apertura straordinaria a feragosto per i musei civici e per casa natale d'annunzio a Pescara. Ad ufficializzarlo Maria Rita Carota, assessore alla cultura del comune di Pescara. Un servizio desiderato e offerto dal comune di Pescara a tutti i turisti che hanno scelto il capoluogo adriatico come meta per le proprie vacanze estive e che dunque, oltre alla spiaggia dal mare, avranno la possibilità di visitare i luoghi della cultura, conoscere le opere che essi custodiscono e scoprire le gemme culturali della città, dai cimeli del bate alla straordinaria arte della famiglia Cascella. Un'iniziativa che si propone di divulgare la cultura, di accedervi e contemplarla, conoscere l'arte, le opere, le tradizioni e le consuetudini di altre città e paesi per arricchire il proprio bagaglio culturale. A questo proposito saranno aperti nelle giornate del 14 e 15 agosto Casa Natale d'Annunzio dalle ore 9 al 19.30. Il Museo delle Gentili Abruzzo è aperto il 14 dalle 10 alle 14 e nella giornata del 15 dalle 17.30 alle 21, con l'ultimo ingresso alle 20.30. Il Museo Civico Cascella sarà aperto il 15 agosto dalle 17.30 alle 21, anche qui con l'ultimo ingresso alle 20.30. L'estate 2023, a dichiarato Carota, sta registrando un afflusso eccezionale di turisti e visitatori, un flusso che non arriva solo dal nord Italia, ma tantissimi sono gli stranieri provenienti da Austria, Germania e Francia. Una presenza che sta avvivacizzando l'economia cittadina e che, stando ai dati dell'Ufficio del Turismo Regionale e delle associazioni di categoria, resta confermato anche per il Ferragosto.